Il deputato del PD Luciano D'Alfonso ha recentemente diffuso una nota critica indirizzata ai direttori generali delle ASL abruzzesi riguardante la partecipazione di candidati di centrodestra agli eventi istituzionali programmati in vista delle elezioni regionali. Questa nota è stata seguita da una telefonata al direttore generale della ASL di Teramo Maurizio Di Giosia che ha sollevato polemiche e interrogativi su natura e contenuto. Sono stato destinatario il giorno dopo la diffusione della missiva di una telefonata della durata di poche decine di secondi da D'Alfonso, diffusa in circostanze che potrà chiarire l'autorità inquirente ove si profilino fatti di reato ad un numero notevolissimo di persone pur dovendo rimanere riservata come si conviene per qualsiasi corrispondenza. A tutela della mia reputazione, dichiara Di Giosia, sento la necessità di chiarire che la telefonata, come accade per ogni breve conversazione, si è svolta attraverso una sorta di sovrapposizione di registri di contenuti comunicativi. Dal canto mio ho voluto tranquillizzare subito il deputato, proclamatosi nella lettera custode della legalità, che non avrei assunto, come ritengo non abbiano assunto i miei colleghi, alcuna iniziativa rispettosa della legge o dal vago sentore di partecipazione al lagone politico. Il direttore generale della ASL è di nomina politica, ricorda Di Giosia, ma una volta nominato è autonomo e indipendente, anche quale interprete di linee programmatiche provenienti dall'assessorato alla sanità. Di Giosia ha riconosciuto che le sue dichiarazioni telefoniche potrebbero essere state poco chiare e incongruenti rispetto al messaggio originale. In particolare, ha evidenziato l'ambiguità delle parole di D'Alfonso, che ha esortato a salvare Di Giosia e a garantire la sua autonomia, senza specificare il contesto o l'obiettivo di tali richieste. Il direttore generale ha ribadito il suo impegno a mantenere la sua autonomia e integrità professionale, sottolineando che le sue azioni negli ultimi quattro anni parlano chiaramente della sua resistenza all'usinghe o condizionamenti politici. Ha concluso affermando di agire sempre nell'interesse della collettività e della legalità. Questo episodio ha sollevato domande sulla natura delle relazioni tra politica e sanità, evidenziando la necessità di maggiore trasparenza e rispetto per l'indipendenza delle istituzioni sanitarie.